È stata presentata a Palazzo Barbieri la stagione di spettacoli promossa dall'estate teatrale veronese a Cortile Mercato Vecchio, dal 28 giugno al 28 luglio. Questa è una rassegna collaterale, diciamo complementare e alternativa alla grande rassegna di spettacoli del Teatro Romano. E ha due obiettivi, quello di valorizzare anche le realtà professionali di Verona, soprattutto nella parte prosa, ma comprende anche la danza, questa rassegna, e soprattutto di proporre degli spettacoli che siano innovativi per un pubblico più curioso, diciamo. Ormai un appuntamento assolutamente tradizionale ed atteso dal pubblico dei veronesi, ma anche dei tanti turisti che scelgono Verona come meta preferita del loro periodo di vacanza. Dieci spettacoli, cinque di prosa e cinque di danza per 22 serate totali, due spettacoli dedicati ai bambini con l'organizzazione di Fondazione Aida. In scena varie compagnie teatrali e gruppi artistici, cantieri invisibili, punto in movimento, teatro scientifico laboratorio, Fondazione Aida. Per la danza la compagnia Artenis, Ersilia Danza, Abbondanza Bertoni e sperimenti dance company Deep Impact. La rassegna sarà inaugurata il 28 e 29 giugno con la sezione di prosa con Fondazione Aida che propone il Lago dei Cini, rivisitato in forma di pantomima. Una quattro giorni, la chiamiamo, sono due giorni di replica per ogni spettacolo e per noi è sempre l'occasione di, come dire, presentare i prodotti nuovi in quello che ci sarà di nuovo. In questo caso addirittura due coproduzioni, una coproduzione prettamente teatrale con una compagnia di padovo, una compagnia giovane. Questa volta invece ci cimentiamo in un altro classicone, il libro della giungla, quindi una cosa che è trasversale, cattura i bambini e cattura anche i genitori. Un'altra coproduzione invece che ha un linguaggio, diciamo, multidisciplinare, possiamo dire così, è il Lago dei Cigni. Il Lago dei Cigni è fatto con OCM, che è l'orchestra da camera di Mantova. L'orchestra da camera di Mantova è il produttore esecutivo di questo spettacolo con noi, Fondazione Aida. Noi abbiamo curato la parte attoriale, che è soprattutto una danza, un movimento, un mimo. Ci sono anche, c'è anche del parlato naturalmente, c'è del recitato da parte di due attori, ma è soprattutto incentrato sull'utilizzo del corpo, accompagnati da questa meravigliosa musica che tutti conosciamo, proprio per avvicinare sia le famiglie, ma soprattutto i bimbi, anche a un linguaggio, quello della musica, della musica classica, che non spesso viene portato nei teatri domenicali.